ragazzi chi gioca chi gioca seconda ma io che tassi siete valerio valerio militante militante valerio che classi sono di napoli fida fida ma lo so di napoli ma non ti hai burro frate 3 secondi valerio pesco di su seconda b seconda seconda b seconda ora la rifai faccio la miseria come una sigaretta roba la storia già giù sarei pure metti quattro asci che pezzi vai lì al 28 ma abbassano meglio di napoli non ti vediamo fatti un po più occhio al contropiede seconda e chi è la seconda seconda quindi la seconda bia la testa ma io non è il palo che volevi? chi non è il palo? chi non è il palo? Stefano guardiamo due misti guardi madre giocherà con l'ansia a 2 4 minuti 4 minuti 30 secondi alla vostra attenzione è trippata avete tutti quanti il telefono a prezzo ecco qua guarda e che va arrivando avanti? andate andate sullo zio andate se vuoi andate se vuoi con lo smartphone in mano qua giù smartphone? aprite instagram aprite instagram che è qua? guarda stioppa stai parlando coglioni ciclisto sei un coglione scoppa sei un imbecille palo brava facci cattare buffonni ancora risposta chi sei buono? questo fa che è? che è? che è? che è? che è? che è? ma non ti risulta? finisci finisci